Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni. È il piacere di ospitare quest'oggi Guglielmo Pisana, che è il referente per la Unione Italiana dei Lavoratori, sindacato della UIL per le province di Belluno e di Treviso. Abbiamo chiaramente un argomento obbligato, che è la situazione che si è venuta a creare prima con la presenza del Covid-19, ma soprattutto adesso con la ripartenza. È una ripartenza che obbliga anche il sindacato a rivedere alcune strategie. Sì, allora io su questo direi innanzitutto una cosa. Una parola chiave, dal mio punto di vista, è quella di moderato ottimismo. Perché, giusto per premettere qualcosa di concreto, l'emergenza in qualche modo nella fase 3 non la vediamo più, ma questo non significa che sia cessato l'allarme. Abbiamo una prospettiva di estate e di autunno sulla quale esprimiamo ancora e abbiamo tutte delle preoccupazioni. Stiamo a vedere, magari non succede proprio niente, però non cessiamo di essere in allarme. Come sindacato ovviamente ci siamo dovuti muovere, soprattutto nella ripartenza, per garantire la sicurezza dei lavoratori. Garantire la sicurezza dei lavoratori vuol dire quindi chiedere il rispetto del protocollo che è stato firmato tra il sindacato, le associazioni datoriali e la presidenza del Consiglio e dei Ministri. Un protocollo che prevede tutte le modalità con le quali si accede in azienda, con le quali si lavora e con le quali si esce dall'azienda. Vale per i lavoratori e vale anche per i fornitori, quindi per intendersi la temperatura, le mascherine, i guanti, la sanificazione ambientale, tutte queste cose che comunque garantiscono che il lavoratore non vada ad ammalarsi proprio in azienda. La distanza naturalmente diventa un problema un po' più difficile da gestire, in particolare quando si parla delle mense, perché nelle aziende ci sono le mense e le mense bisogna gestire un po' in modo particolare, tant'è che in un'azienda addirittura si fanno le 6 ore anziché le 8 ore proprio per evitare l'accesso alla mensa, con buona pace purtroppo di chi poi quella mensa gestiva, per il momento quindi dovrà soprassedere, ma questo ha consentito di non fruire della mensa e quindi di garantire maggiormente ai lavoratori. All'interno delle aziende poi sono stati costituiti dei comitati, costituiti dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, comitati che controllano e che suggeriscono anche modalità organizzative che possano garantire al meglio. Queste normative di fatto impediscono la piena occupazione rispetto a prima, perché le distanze non possono essere aspettate? Su questo direi no, nel senso che invece è garantita laddove le distanze già c'erano. Ci sono stati dei casi un po' particolari, ad esempio penso l'Uxottica di Agordo che aveva le postazioni a 80 centimetri, non a un metro. In questi casi, cioè proprio siamo al limite, in questi casi evidentemente l'uso della mascherina e dei guanti può anche salvaguardare e quindi in qualche modo superare insomma il problema del metro, della distanza. Per il resto non mi risulta che ci siano grossissimi problemi. Laddove non abbiamo invece sentore preciso come sindacato e nei piccoli e nelle aziende artigianali, perché è chiaro che laddove c'era già un capannone bello grande il problema non sussiste, ma dove magari 4-5 erano dentro una stanza allora il problema c'è. E purtroppo non sappiamo, o in parte perlomeno non sappiamo che cosa accade, perché i nostri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, quelli territoriali, un'altra fattispecie, che stanno in sindacato ma si relazionano con tutte le piccole aziende laddove questi chiedono anche consulenza, non sempre riescono ad entrare nella piccola azienda perché c'è la paura, si iscrivono al sindacato, poi chissà che cosa succede, non succede nulla, ma c'è ancora un po' di pregiudizio. Sì, beh questa pandemia ha fatto capire come sia tutto correlato, un settore con un altro. Mi viene in mente ad esempio il trasporto pubblico, noi diamo per scontato che riguardi solamente chi si sposta per andare a fare compere internamente, mentre adesso che è un po' in difficoltà, problematiche ci sono anche per raggiungere gli opifici. Il trasporto pubblico c'è un grossissimo problema perché naturalmente non si può più fare il pieno degli autobus come si poteva fare prima e qui nel bellunese abbiamo anche un problema maggiore che è quello degli autisti, perché ci sono stati autisti che si sono ammalati e non è stato facile riuscire a sostituirli perché c'era sempre un timore, tra l'altro il bellunese, lo sappiamo, ci stiamo battagliando da tempo con questo problema, continua a spopolarsi. Più lentamente di prima ma continua a spopolarsi e questo non è un vantaggio per chi vuole trasferirsi qua. Ci vorrebbe probabilmente una politica di carattere diverso e questa potrebbe essere anche l'occasione giusta, una politica di incentivazione alle ristrutturazioni, alle infrastrutture. Volevo sapere qual era la posizione della UIL per quanto riguarda il protocollo dell'Inail che sono i protocolli che devono essere seguiti per la sicurezza. A un certo passaggio si prevedeva anche la responsabilità penale dell'imprenditore. Ecco sì, qui c'è un... bisogna fare chiarezza, bisogna essere molto schietti. Intanto l'Inail dopo la prima circolare che sembrava molto restrittiva, di fatto ha emanato un ulteriore circolare interpretativa con la quale sostanzialmente, senza entrare troppo nei dettagli, quello che deve fare il datore di lavoro è di rispettare il protocollo di cui parlavo prima, quello già firmato, quindi non c'è molto da... una volta rispettato il protocollo non si vede per quale motivo debba esserci uno scudo penale, e così lo chiamano, nei confronti del datore di lavoro che non rispetta questo protocollo e quindi tutto ciò che in esso è compreso. Quindi basta avere... Basta rispettare il protocollo e i problemi sono tutti risolti. Ci sono dei settori che hanno sofferto di più? Settori più o meno hanno sofferto tutti, chiaro che il settore del turismo e dei servizi è stato quello più penalizzato. Restando nell'industria, poi ne parleremo più. Rimanendo nell'industria diciamo che forse, ecco, il settore che maggiormente qui nel Bellunese ha sofferto è quello della ceramica, ma c'è un motivo ben preciso, nel senso che qui a Belluno l'idea standard, perché di quella parliamo, produce la ceramica di alta gamma, cioè le robe che non sono necessarie e quindi in un momento di crisi internazionale gli ordini sono diminuiti fino a cessare. Pertanto, ecco, è entrata in difficoltà, mentre le ideal standard che si trovano in Bulgaria piuttosto che in Ungheria, che producono prodotti di bassa gamma, quindi di uso comune, non hanno cessato l'attività. Ecco, questo è stato il vero problema. Tuttavia si registra un ritorno degli ordini e l'azienda è venuta incontro anche alle esigenze dei lavoratori, è proprio il caso specifico in cui si fanno sei ore, riuscendo a coprire le ulteriori due ore con le ferie, con il roll. Ma non è da intendersi come contratto di solidarietà questo? No, l'azienda è venuta incontro alle richieste dei sindacati, in questo senso voleva aprire anche a fine giugno, poi ha riportato al 15, questa è una notizia, ma alcuni settori ripartiranno già dall'8-9 della prossima settimana. Poi un'evidenza è che è meglio avere filiere corte nell'industria, perché il problema si può creare se non arriva ad esempio l'approvvigionamento delle materie prime, cosa che è successa all'inizio, poi c'è il problema secondario e quello dello smercio, soprattutto in questa fase a macchia di leopardo di sviluppo dell'epidemia. Diciamo che negli anni 90 per aumentare il profitto ci si è accorti che fare magazzino era una cosa negativa e quindi tutti hanno pensato di eliminare il magazzino, parliamo di materiale in entrata, quindi semilavorato o completamente da lavorare e materiale in uscita che è il prodotto finito che deve essere venduto. Se io non ho magazzino è di tutta evidenza che in una crisi di questo genere che era imprevista e imprevedibile, parliamoci chiaro, siamo andati avanti quasi 30 anni senza che accadesse nulla, però adesso che accade questa cosa ci dobbiamo anche rendere conto che un po' di magazzino ci vuole e di più forse alcune lavorazioni, penso alla mascherina che è la cosa più semplice, che sono però strategiche per una nazione, non possiamo cessare di farle perché hanno un basso valore aggiunto, si deve trovare un meccanismo perché determinate lavorazioni rimangano, perché non sappiamo mai un domani che cosa succede, non abbiamo più le guerre, per fortuna, le guerre che si combattevano con le armi, però adesso abbiamo le guerre economiche e queste continuano ad essere combattute, ci dobbiamo attrezzare. Senta, voi avete qualche lamentela da parte dei vostri associati sulla Cassa Integrazione, sul quale stai dicendo di tutto e di più, io sento molte voci di persone che non hanno ricevuto nessuna copertura. Sì, qui è effettivamente vero, molti si rivolgono a noi proprio perché non hanno ricevuto la Cassa Integrazione quella che era prevista, quella che è stata tanto decantata. Sì, peraltro è una perdita di reddito notevole. È chiaro che chi aveva un reddito e andrà a percepire l'80% di quel reddito o comunque fino a un massimo di 800 euro, quindi non parliamo di grandi cifre, e non riceve nemmeno quelle, se deve fare la spesa e non aveva accantonato nulla, si trova in grossissima difficoltà. Proprio per questo era stato fatto un accordo con le banche, un accordo tra Presidente del Consiglio, Sindacato e Abbi, associazione delle banche, affinché le banche potessero anticipare con la sola presenza della domanda di Cassa Integrazione da parte dell'azienda e della domanda da parte dell'interessato. Purtroppo questo meccanismo non ha funzionato, questo bisogna dirlo, è mancato da parte della Banca d'Italia un controllo sulle banche se hanno fatto o non hanno fatto questi prestiti che potevano tranquillamente fare perché erano garantiti. Quindi si chiama bancario fallarci. Sì, in questo caso sì. A Monte però abbiamo anche un altro problema, cioè questi soldi devono essere pagati dall'Inps. L'Inps in questo frangente in cui è stato obberato non solo dei soliti lavori ma di una cassa integrazione e disoccupazione di mole enorme ha mostrato i suoi limiti, limiti che non sono dovuti a responsabilità, anche se è vero abbiamo chiesto le dimissioni del Presidente dell'Inps, però il dato di fatto è che qua siamo sempre nella solita storia del pubblico impiego. Un bel momento ci siamo accorti che c'era troppo personale, abbiamo fatto sì che il personale diminuisse ma non abbiamo modificato l'organizzazione e nemmeno abbiamo più assunto nessuno. In ultima si è messa anche la quota 100 che ha diminuito ulteriormente il personale. Quindi adesso nonostante tutti gli sforzi di centralizzazione da quello che so io, insomma se uno deve prendere un impiegato pubblico che deve prendere il TFR adesso non si può più rivolgere all'Inps della città dove risiede, ma a Viterbo piuttosto che a Chieti, quindi creando anche della confusione notevole, ciò nonostante non sono riusciti a far fronte a quella che era l'esigenza. L'Inps ha bisogno sicuramente di forti iniezioni di personale, il personale è anche nuovo perché adesso sono quasi tutti anziani e questo vale... Che va anche formato. Esatto, va riformata l'organizzazione ma non si può fare l'uno senza l'altro, ci vuole anche il personale e questo vale anche per la giustizia che in questo periodo è stata chiusa. Siccome abbiamo poco tempo, io rimarrei su un altro tema interessante, è esploso il fenomeno del telelavoro, per la verità c'era già prima smart working, lavoro agile, poi le differenze... Gli hanno dato diversi nomi ma fondamentalmente lavoro da casa. Però questo può diventare anche una complicazione per i rapporti sindacali perché viene a mancare la presenza. Il lavoratore che è iscritto o che comunque ritiene di aver bisogno del sindacato si rivolge anche quando sta a casa, anzi proprio adesso che il telelavoro ha preso piede così tanto, forse un po' troppo rispetto a prima, poi non ne parliamo, non c'è neanche paragone, in questo momento le lamentele che riceviamo sono quelle per cui con il telelavoro si finisce per lavorare molto di più perché non ci sono più veri e propri orari, non posso più dire ho terminato le mesi e otto ore e stacco, perché poi comunque ti arriva la telefonata, perché qualcosa è stato dimenticato, mentre se sei sul posto di lavoro fisso ti richiameranno l'indomani, se sei a casa ti richiamano subito. Per di più è chiaro che ci sono anche tanti altri problemi, uno stupido l'ergonomia di dove ci si siede, magari in ufficio si è provveduto a mettere una sedia che non ti fa venire il mal di schiena a casa, magari non ce l'hai perché ti sedevi mezz'ora al computer non di più, quindi questi sono problemi in più che ci sono per il telelavoro, tant'è che abbiamo richiesta da parte della gente di ritornare a lavorare, se non per il 100% del tempo, anche perlomeno per il 60%. Ritornare in fabbriche, negli uffici. Ritornare negli uffici perché maggiormente, bisogna dire questo, cioè chi è in fabbrica alla catena non è in telelavoro, sono quelli degli uffici, sia del pubblico che del privato. Una battuta, visto che abbiamo poco tempo, una problematica evidente anche prima, ma diciamo che il nostro è un paese che fa finta molte volte di non vedere, è quello dei lavoratori esteri che sono di fondamentale importanza, soprattutto nel settore dell'agricoltura ma anche del turismo. Certo, anche del turismo, qui a Cortina per dire un buon 30% di quelli che lavorano negli alberghi sono di origine extracomunitaria. Il sindacato come pensa di risolvere? Allora, qui c'è un problema, quelli irregolari ci sono e restano. Il problema si pone per quelli che sono irregolari o clandestini, che comunque sono confinati in baraccopoli, perché questo lo sappiamo, non è che dobbiamo nasconderci dietro un dito. Per questi è necessario provvedere a regolarizzarli, magari anche a tempo determinato, perché possano continuare il lavoro che facevano prima, senza ricorrere a quei fenomeni bruttissimi di caporalato. Questa sarebbe l'idea del sindacato, fermo restando il fatto che adesso purtroppo per i nuovi ingressi bisognerà stare molto attenti. Noi non abbiamo notizie di che cosa sta accadendo in Africa, piuttosto che in Romania. Abbiamo scarsissime notizie relativamente al Covid. Magari è vero, non sta accadendo nulla e per questo non abbiamo notizie. Io mi auguro che sia così, ma non è detto che sia così. Quindi intanto sistemiamo quelli che abbiamo e vediamo se ci bastano, perché magari ne abbiamo abbastanza. Secondo la vostra accezione, la regolarizzazione della posizione di lavoro corrisponde anche all'ottenimento della cittadinanza o sono due cose differenti? No, la cittadinanza si ottiene dopo aver avuto un percorso ben preciso. Magari non saremmo tanto d'accordo con quel discorso della cittadinanza dopo 10-20 anni. Potremmo ritornare anche alle normative precedenti, per intendersi a quelle di un anno fa, che sono state emanate un anno, un anno e mezzo fa. Quello magari anche sì, ma comunque un percorso deve essere fatto, non può essere permesso uguale cittadinanza. Questo no. Anche perché da un punto di vista politico diciamo che si sfrutta un pochino questa confusione. Ci sono dei percorsi, se uno sta in Italia un po' le norme italiane, la lingua italiana le deve conoscere. Vabbè, allora gli auguri naturalmente al sindacato, così come al mondo imprenditoriale, perché si possa ripartire velocemente senza grandi traumi, fermolestando che il futuro ha molte incognite e pericolose incognite. In autunno sapremo esattamente che cosa succederà. Grazie a Guglielmo Pisano, referente della Will per le province di Treviso e Belluno. Grazie a voi per averci seguito e buona serata.